urmerci bellissimo con due locomotive svizzere senza graffiti in doppia trazione diretto oltre confine ecco perché ha due locomotive moderne potenti graffiti inesistenti lunghezza circa 700 metri ecco perché ha due locomotive anche per le solite che ha oltre qui cominciano le belle solite fino ad arrivare al tunnel del sempione ci sono ancora 30 km circa in territorio italiano però l'alimentazione svizzera e qui sono 700 metri di treno non scherzo anzi ce n'è uno addirittura dietro che spinge una bellissima bls 465 per non rendere troppe in tensione i ganci specialmente il primo gancio che colpi in tensione quello attaccato alle prime due locomotive ecco perché spesso metterne una in coda che spinge una bellissima 465 design pieno in farina quindi anche questa di design italiano diciamo bls una combina privata svizzera perché le tre di svizzere in genere ce li hanno rosse